Inna! Quanto per te? Grazie! Oh! Cos'è tutto? Cos'è tutto? Cos'è tutto qua? Un profumo! Un profumo che fa grazie! Bello! Con questo bel basilico lo facciamo per il petto! Per il petto! Allora! Mettiamo tutti gli ingredienti qua dentro! Eh! Questo è stato gentile! Prima! Ora mettiamo il formaggio! Bello! Vado! 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 Tutto il basilico! Apetta! Lascia! Avete! Buongiorno! Mi sa che il tuo ha questa ma lì! Avete! Avete! Apetta! Avete! vediamo se ci sono io ho aperto ho aperto ho aperto bene ho aperto ho aperto ho aperto pistola ed ecco il nostro verso ok guardate aperta potremmo ci sta già yes adesso crociamo la pasta e poi la mettiamo della pasta ora la pasta è conto di mettere del pesto no è conto di mettere Grazie a tutti